Cosa ne dite di questi disegni? Non si improno delle foto! Shhh! Barba Barba, stai zitto! Lolita dorme! Ha bisogno di riposo per riprendersi dalle forti emozioni che ha avuto oggi! È ora di tornare a casa! Grazie nonna per questo indovinello! Ciao a tutti! E ora? È ora di tornare a casa! Grazie nonna per questo indovinello! Ciao a tutti! Cosa ne dite di questi disegni? Non si improno delle foto! Shhh! Barba Barba, stai zitto! Lolita dorme! Ha bisogno di riposo per riprendersi dalle forti emozioni che ha avuto oggi! Ha bisogno di riposo! Ha bisogno di riposo!